È arrivata la settimana della Federal Reserve, Jerome Powell cosa farà? Alzerà il costo del denaro di 50 punti base o di più? Quali saranno le conseguenze per il mercato, per il mondo azionario americano e per quello valutario? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Allora, un'altra carta verde Riccardo, oggi ho fatto l'unplane, 5 carte verde su 5, e sul metallo giallo, sull'oro. Altra materia prima, chiaramente importantissima, che ha perso tantissimo terreno dai massimi annuali, eravamo arrivati a 2.080 dollari e siamo tornati indietro di oltre 200 dollari. Praticamente ci stiamo rimangiando quasi tutto il profitto annuale, che a un certo punto, insomma, stava mettendo a segno il metallo giallo. Però penso che inevitabilmente possa tornare ad essere forte. Possa tornare ad essere forte per compensare l'inflazione. L'unica cosa che frena il dollaro nella sua salita, purtroppo, è il dollaro forte. Quindi, prima o poi, la politica monetaria restrittiva della Fed finirà, o perlomeno non finirà, ma il dollaro si sarà rafforzato a sufficienza da scontare in anticipo, appunto, l'arrivo di questa politica monetaria restrittiva. Quindi, quando si capirà davvero quale sarà l'obiettivo finale, il target finale di questa politica restrittiva, il dollaro smetterà di rafforzarsi, o perlomeno farà quello che deve fare in anticipo, perché i mercati scontano sempre in anticipo, e, finalmente, il dollaro sarà libero di questo freno a mano tirato, che è il dollaro forte, e potrà davvero salire verso nuovi record storici. Io lo vedo verso il superamento dei valori toccati ad agosto 2020. Nei prossimi anni, chiaramente, non di certo domani. Ecco, peraltro, un dollaro forte che non è mai piaciuto alla Federal Reserve, anche in quel gioco di equilibri sul fronte dell'export. Ora vediamo, appunto, un dollaro in area 1,05. I confronti dell'euro, vediamo quanto farà ancora proseguire questo movimento al ribasso, al netto di tutti i giochi, gli equilibri legati anche a quel conflitto, nel cuore dell'Europa. I livelli, a questo punto, di questa ultima strategia? Guarda Riccardo, giusto un appunto sul dollaro. Sarà un caso che dal 28 di aprile, giorno in cui ha fatto un nuovo massimo il dollaro index, il dollaro si sia fermato. Non è né sceso né salito. Evidentemente, anche sul dollaro index, come su tantissimi altri asset, si sta aspettando la riunione di domani sera. Una Fed che fa solo 0,5%, potrebbe far festeggiare i mercati, perché ormai quello 0,5% di rialzo è scontato. Una Fed, viceversa, che addirittura fa tre alzate in uno, tre quarti di punto, quindi 0,75, potrebbe deludere i mercati, quindi chiaramente farà continuare a scendere gli indici azionari e viceversa continuare a far rafforzare il dollaro americano. Livelli sull'oro, 1.860 come prezzo d'ingresso, 1.840 come stop loss, siamo sotto i minimi della giornata di oggi, anche perché l'idea è una trade di inversione rispetto alla tendenza attuale, che è palesemente short su euro-dollaro, e 20 dollari di target uguale allo stop, quindi 1.880 come prezzo obiettivo. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a House of Trading. Grazie a tutti.